Il siluramento di Giuliano Diodati nella giunta Alessandrini ha provocato come prevedibile la forte reazione della componente PD che fa capo alla deputata Vittoria Dincecco e all'assessore regionale Donato Di Matteo che questa mattina in conferenza stampa non le ha mandate a dire al sindaco e anche ai vertici del suo partito. Noi prenderemo posizioni così come ci siamo impegnati in quella comunicazione facendo capire già da oggi che siamo una parte diversa da chi governa il centrosinistra in regione e in provincia è al comune di Pescara ma soprattutto al partito democratico che è il partito più importante del centrosinistra che deve capire che così non si va più avanti ci si sta profilando una grande sconvitta elettorale che nei prossimi mesi avverrà sulla città di Pescara e la regione Abruzzo. Sono enti che non hanno ancora fatto capire ai cittadini qual è la loro linea, è solo un giochetto di poltrone, io mi vergogno quando mi attribuiscono pure a me o persone vicine a me l'idea che ci siamo trovati a dover contrattare poltroncine. Noi abbiamo fatto una cosa semplice, abbiamo difeso l'operato di un amministratore capace, competente, onesta che era ingiusto togliere perché è eletto dai cittadini. Dopo tre anni non sono riuscito ancora a capire dove porteremo questa città e questa regione, quali sono i provvedimenti seri per le povertà, quali sono i provvedimenti seri per il rilancio dell'edilizia, quali sono i provvedimenti seri per far sì che questa nostra regione possa avere una grande attrattività turistica. Nel comune di Pescara non so nemmeno cosa dire questo individuo che gira come sindaco sulla città, che non riesco a capire se è carne o pesce, che poi tra l'altro crea imbarazzo a se stesso, al suo futuro, al futuro dei tanti persone che stanno con lui e a noi stessi che l'abbiamo sostenuto. Ediodati punta invece l'indice contro Marco Alessandrini a cui non risparmia critiche specificando di dover ancora valutare se continuare a fare politica all'interno del Partito Democratico. Sicuramente con questo vertice regionale e comunale del Partito Democratico non c'è spazio per quanto mi riguarda, perché il mio massimo dispiacere è legato al fatto che è stato lo stesso mio partito a dover ricorrere con tutta una serie di artifici tecnici a sacrificare il mio posto all'interno dell'esecutivo di Pescara. Io ritengo personalmente che sia stato un grande errore. Al momento ho perso sicuramente molta fiducia nei confronti del vertice del Partito Democratico, ripeto, a livello regionale e a livello comunale. Si potevano trovare soluzioni differenti rispetto a questa che si è trovata, fondamentalmente si è voluta trovare questa soluzione perché forse era la soluzione più facile per loro in questo momento. Ma non si può far pagare agli altri gli errori che si commettono da soli, per cui penso che sia importante che il Sindaco prenda atto di questa situazione perché lui che sbaglia e lui che continua a sbagliare e a commettere errori ha commesso adesso questo terzo errore. Mi auguro per lui, non me lo auguro per la comunità di Pescara, ma mi auguro per lui che questo non sia l'errore determinante e che rimandi a casa questa amministrazione.